Possono andare a incidere e diminuire. Non basta la crisi a penalizzare i pensionati, a metterli in difficoltà economica. Ci sono anche le scelte che fanno i comuni sull'aumento delle tasse locali. È quanto emerge dai dati raccolti dalla CISL di Fano sugli ambiti territoriali, sociali 6 e 7. Dall'indagine risulta che su 135.000 abitanti delle vallate del Metaure e del Cesano ci sono 45.000 pensionati che percepiscono un importo medio di circa 900 euro. La popolazione diminuisce, ma d'altra parte aumentano le persone con più di 65 anni. Ed è questa la categoria che risente maggiormente delle imposte comunali, visto che le pensioni minime sono più di 1.700 e quindi persone che percepiscono più o meno 400 euro al mese. Oltre agli anziani, poi, sono in crescita anche gli invalidi civili. Nell'ambito sociale 6 sono quasi 5.900, 1.880 invece nell'ambito sociale 7. e l'importo medio mensile è di circa 420 euro. L'appello della CISL, quindi, è quello di agevolare le fasce più deboli e chiede ai comuni di introdurre un IRPEF graduale con fasce di esenzione per redditi bassi fino a 10.000 euro. Ad esempio, come avviene a Saltara. Altro dato preoccupante, poi, sono le bollette. Abbiamo comuni virtuosi. Il comune di Fossombrone, per esempio, ha ridotto la tariffa dei rifiuti urbani, che si paga per metri quadri della casa. Altri comuni hanno aumentato la tariffa dell'acqua, hanno aumentato i fissi. Altri comuni hanno introdotto anche agevolazioni senza l'introduzione dell'ISE. Ecco, quindi chiediamo ai comuni di avere una gestione più equa e più attenta ai redditi bassi con l'introduzione anche di agevolazioni, che però prevedono l'applicazione dell'ISE come strumento di equità. Per quanto riguarda Fano? Sì, quanto comprende Fano, il gestore di Fano, che è Aset, ha aumentato la fascia base, che dava da 0 a 60 metri cubi, con un incremento di 4 euro ogni bolletta bimestrale. Per un anziano che vive con 450 euro di pensione sociale, anche 4 euro ogni due mesi incidono notevolmente nel reddito della pensione. Se poi supera la fascia base di 60 metri cubi scatta la tariffa superiore. Dove sono aumentate le tariffe, spiega Giovanelli, è aumentato anche il fisso di circa 3 euro a bolletta. Dallo studio inoltre è emerso che il comune in cui si pagano meno tasse è San Lorenzo in campo. Chiediamo ai comuni, ai gestori dei servizi idrici, servizi tariffe e rifiuti, di avere un occhio di riguardo per i redditi medio-bassi, introducendo anche qui agevolazioni per fasce sociali, con redditi di 450 euro per impie di pensione sociale, una segna di invalidità.